Buonasera amici sportivi, martedì 31 gennaio a tempo di atletica e qui anche nell'ultimo giorno di questo mese, tra poche ore saremo già a febbraio, dunque si avvicina poi anche il momento dei primi grandi eventi dell'atletica indoor, poi verrà il tempo di quella outdoor o diciamolo all'italiana, all'aperto. Stasera con noi per questa prima parte, rappresentanza dell'Atletica Virtus Duke, è tornato a trovarci Dario Fazzi, buonasera Dario, buonasera Guido e grazie di essere con noi e poi una new entry, la prima volta Noi TV a tempo di atletica, il signor Ciro Colucci da Ponte Amoriano. Buonasera. È così Ciro, ho detto bene? Sì, sì, ho detto bene, signor, che presentazione che ti ho fatto, il signor Ciro Colucci da Ponte Amoriano. Dario come andiamo? Sei già venuto a trovarci un po' di tempo fa? Sì, sì, sono passato recentemente, oggi però sono, non vengo come atleta ma come responsabile della categoria ragazzi. Eh lo so, lo so, ma intanto io però voglio chiedere anche dell'atleta Dario Fazzi. Sì, sì, come atleta Dario Fazzi. Un chino ad allenarti con una certa incostanza, no? Abbiamo ricominciato ad allenarsi finalmente, mi verrebbe da dire, in modo ottimale. Sì, sì, sì. Naturalmente salterò la stagione al coperto che finisce tra un paio di settimane e speriamo ad aprile di poter gareggiare all'aperto. Ora ne parliamo. Cos'è la Virtus Ducca? La Virtus Ducca è tanti atleti, so perché mi viene in mente Francesco Niccoli, però ce ne sono tanti, no? Ex atleti che poi rimangono dentro la famiglia e seguono i ragazzi, perché ora ce n'è più che mai bisogno, visto che abbiamo sfondato il numero di 1200. Però è che uno come Dario Fazzi, che è proprio nel pieno della sua attività agonistica, già si dedica ai ragazzi. Tu che gruppo hai? Allora, in questo momento ho loro che sono la categoria ragazzi e ho ancora qualche gruppo di esordienti. Questo comunque sia grazie a Matteo che ci dà una possibilità lavorativa anche per noi che non ci occupi troppo tempo, ci permette di guadagnare qualcosa e nel frattempo ci possiamo allenare bene. Questa è la Virtus, quindi quando tante volte questo vecchio cronista, no Ciro? Questo vecchio cronista dice la famiglia della Virtus, ogni tanto dico una cosa esatta anch'io, è proprio così. Tu Ciro invece da quanto tempo sei alla Virtus? Io sono alla Virtus da 4 anni, ho cominciato ad allenarmi da esordiente, o meglio da esordiente B, secondo anno, e sono arrivato fino ad allenarmi da ragazzo, sono al secondo anno ragazzi. Adesso tu sei secondo anno categoria ragazzi, sei di un anno per me magnifico, che è il 2010. Tu sai anche perché? Perché ne abbiamo parlato stasera quando sei arrivato, no? Perché il mio riferimento è calcistico e so che a te il calcio proprio? Te ne frega? Niente. Credo di essere uno dei pochi. No, 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 non è vero, non è vero, dai. Della vita. Ma anche perché oggi, quelli che oggi hanno 13 anni come te, rispetto a quelli che avevano 13 anni ai miei tempi, cioè nel secolo scorso, avete tanti altri interessi. L'atletica a tempo pieno per te, nel senso che tu ti stai dedicando, però più che altro al mezzo fondo e alla marcia. Sì, sì, infatti, ora in questo periodo ci sono più che altro gare campestri, 1000, 1500, adesso domenica ci sarà una staffetta, una 3x1000. Che te farai? Ovviamente. Dove? Dove siete? A Fuscecchio. A Fuscecchio, sì. La marcia invece, ho cominciato ad aprile, ad aprile del 2022. Possiamo dire che è colpa, se ti sei dedicata alla marcia, è colpa di un certo signor Stano, campione del mondo. Inizialmente, devo dire la verità, non mi piaceva per niente. Però poi cosa è successo? La stai già praticando? Esatto, sì, sì, sì. Ora in questo periodo ho smesso, esatto, perché c'è un altro tipo di gara, però verso aprile, comunque, sì, verso aprile, credo di ricominciare. Senti, cosa dici di questo che è uno dei tuoi ragazzini? Tanto bravo, complimenti, perché uno viene qui davanti alle telecamere, non è semplice, però, no, 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 immagino che a scuola sei anche bravino, io ti dovrei interrogare stasera, però non so se lo farò. Cosa dici di questo ragazzo? È molto bravo, si impegna molto, è fra ragazzi che appunto fa un allenamento in più facoltativo, quindi mettiamolo molto, tra virgolette… E tu, essendo un mezzofondista, lo segui nel mezzofondo, no, Dario? Allora, io, naturalmente, lui in questo momento è molto più portato sul mezzofondo, è bravissimo nella marcia, ma naturalmente, come tutti i ragazzi, ora hanno una preparazione multilaterale, quindi da più aspetti. Naturalmente, ora come ora, abbiamo più impegno sulle campestri, e quindi roba un pochino più lunga, però abbiamo anche un programma al coperto, all'indoor. Poi hanno gareggiato questo fine settimana, lo scorso fine settimana, le bimbe, e quello prima i ragazzi. Quindi comunque stiamo impegnati a 360 gradi, sia sulla stagione al coperto che su quella all'esterno, quindi il cross. È una bella, ti dico, Dario, tu ci sei passato, perché sei ancora giovanissimo, insomma, diciamo, tu quant'è che sei la Virtus ormai? Ah, io da quando avevo sei anni, quindi no, 21. 15 anni, tu ci sei passato, ma è anche una bella scuola di vita, no? Certo, la maggior parte è perché veramente è un ambiente molto accogliente, per dire, mi è capitato in questi ormai tanti anni che sono lì, molti atleti, che ormai sono diventati atleti, ma ragazzi che sono venuti da altri sport, dopo due o tre mesi che sono stati con noi, hanno detto, noi restiamo qui, cioè è un altro mondo rispetto a dove eravamo prima. Si sarà perché è uno sport che permette a tutti di partecipare, di fare le gare. Senza pretendere che ci sia il campione, no? Quello tanto, se deve nascere, nasce. Però io sostengo anche che merito ci dobbiamo prendere anche noi istruttori, per come ci approcciamo con i ragazzi. Tu sei al primo anno che insegni? Al secondo o al terzo? Comunque sia, sono stato tanto su… E' un'esperienza più anche per te che, diciamo, ti completa ulteriormente, no? Io ho notato, allenando loro, che secondo me sbagliavo tante cose anch'io ad allenarmi. Accidenti! E sembra un paradosso per dire, a guardare un bimbo, comunque sia un ragazzo della loro età, dice un allenamento di un 18enne, 19enne, non so a cosa possa centrarci, però io vedevo degli errori che ho imparato solo a vedere da quando ho avuto loro. I risultati poi arrivano, inevitabilmente, perché è chiaro, adesso la Virtus ha 1200 delle varie categorie, 1200 atleti che sono un numero impressionante e, come cantava quello, se uno su mille se ce la fa, poi comunque qualcuno arriva anche a dei bei risultati, senza pretendere per forza di diventare lo stano della situazione, no, il giro? Ok sì. E' il caso anche di queste settimane, che sono un po' l'abbrivio stagionale, dove diversi atleti della Virtus, ad esempio l'ultima, abbiamo anche una foto, Viola Pirotti nella categoria allieve, ha fatto una bellissima gara a Modena, perché io credo, no Dario, che 8.01 su 60 metri allieve non sia proprio un tempo malvagio, no? No, no, ma… E sia qualificata per i campionati italiani di categoria e non è la prima. No, no, certamente, ma tra l'altro il percorso di Viola è stato molto particolare, perché l'ho avuta io l'anno scorso nel gruppo comunale con Roberto Marietti, subito si è visto che comunque si aveva delle doti particolarmente avanzate, era molto forte. E' buono questo 8.01, mi sembra un bel tempo. E' buono, è proprio per come anche l'ha fatto, perché è un anno che questa ragazza fa atletica, con dei margini che forse non possiamo avere, con dei margini di miglioramento impressionanti e quindi alla fine dell'anno scorso, con l'Unione Tecnica, quindi d'accordo con Roberto e gli altri tecnici della nostra categoria, abbiamo detto che questa ragazza va mandata a qualcuno, Francesco Nicoli l'ha accolta volentieri e ora ha intrapreso questo percorso. Bene, complimenti e complimenti a tutti gli altri, perché poi diversi atleti si sono qualificati per i campionati, già andare a campionati italiani comunque è un bel risultato, poi io, allora a scuola andiamo bene, fai la seconda media se non sbaglio, mi hai detto stasera non ho ancora deciso quello che farò da grande, ma hai ragione, però mi dicono che sei brava anche a scuola, non è che mi hanno detto una stupidata, no? No, vado abbastanza bene. Ma Di Dario cosa dici, ora a parte che è qui stasera, ti trovi bene con lui, sei contento di come ti allena? Sì, sono un po' cattivo. Quante volte ti alleni la settimana Ciro? Allora io mi alleno, tu fai anche l'extra. Esatto, lo standard sarebbero due allenamenti. Senti, lo standard non è piaciuto, lo standard non è… Io faccio parte del gruppo martedì e giovedì, quindi mi alleno il martedì e il giovedì, poi c'è un altro gruppo che si allena invece il mercoledì e il venerdì, poi appunto c'è il lunedì che è un allenamento facoltativo, quindi di chi si vuole allenare. Quindi a te ti tocca, perché dobbiamo chiudere, tre giorni alla settimana, più c'è la scuola, eh bravo, 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 bravo. Senti Dario, proprio per chiudere con te, tornando al Dario Fazzi, atleta, beh quest'anno mi dicevi la stagione è molto anticipata, quindi dovremmo vederti in pista già ad aprile inoltrato. Speriamo il prima possibile, io ci fosse la possibilità che reggerei anche a marzo, e insomma speriamo un bene. 800? 400. Già, 400, questa nuova, non del tutto nuova, ma ti ricordavamo più sugli 800, 400, il giro della morte, eh? Il giro della morte. Dario è stato un piacere riaverti qui con noi, grazie per tutto quello che fai come atleta e come tecnico della Virtus. Ciro, mi raccomando, eh? Io non ti dico nulla, mi sei piaciuto molto quindi, va bene? Grazie, e in questo caso quando sono così piccolo è il caso di dirgli davvero buona vita, eh? Buona vita in tutti i sensi. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, torniamo tra poco, gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, sono già di là, l'avete visti, con due atleti anche in questo caso un po' più grandicelli di te Ciro, però molto giovani anche loro. A tra poco. Eccoci tornati, seconda parte di A Tempo di Atletica con gli amici del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, stasera abbiamo due giovani atleti della gloriosa società Garfagnana, sono con noi, devo stare attento a come pronuncio il nome, mi sono preparato. Ghirma Castelli, buonasera Ghirma. Buonasera, buonasera. Grazie, e poi io vi dicevo, ma come sarà l'isola? Ha detto, ma io ho le reminescenze, perché non lo so, più o meno avrò l'età dei tuoi genitori, Liza Bellandi, l'ho detto bene Liza? Sì, buonasera. Ah, dobbiamo cantare New York, New York, no? Io, meglio che non canti. Eh, ma l'hai detto Liza, l'hai fatto? Ti è piaciuto? Perché uno si ritrova il nome che gli danno purtroppo, non può scegliere. Io sono contenta. Ti piace? Sì, sì, sì. Ma chissà quante volte invece ti hanno chiamato Liza. Eh, beh, non sono, non sono. A scuola anche? A scuola, università, lavoro, ovunque. Allora, raccontiamo un po' le storie anche di questi due ragazzi. Beh, Ghirma, tu mi hai detto quando sei entrato qui stasera, ma io sono venuto qui che ero piccolino e tu eri un po' meno vecchio. Allora, tu sei venuto qui tanti anni fa. Sì, 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 ero venuto con il Piero Lloro, approfitto anche per salutarli. E loro ti stanno seguendo stasera, eh? Sì. E sono ancora, te lo posso garantire, molto molto legati a te. No, no, infatti li vedo ancora, siamo a Galicano, quindi ogni tanto capita che li vedo. Senti, nel frattempo in questi anni hai continuato sempre a fare atletica, no? Sì, sì, ho continuato, sì, sì. Ora mi alleno con Massimo Santucci e continuo ancora, sì, sì. Massimo Santucci dove? A Viareggio? A Viareggio, sì, sì. E allora Marco, ce l'abbiamo con le immagini di Ghirma? Perché io non riuscivo a capire, ringraziamo anche la vostra detta stampa Valentinazzi, non riuscivo a capire dove eri. Stasera mi stai raccontando che sei a Viareggio, quindi vai anche a Viareggio ogni tanto? Sì, ogni tanto ero a Viareggio, mi alleno con lui e ci sono anche altri ragazzi e approfitto per, mi alleno con loro e approfitto questa, abbiamo un grande gruppo, ci si allenano tutti insieme lì. Ecco, qui sei a Viareggio dove sei esattamente? Che zona? No, no, sì, qui sono a Piano di Conca, non a Viareggio, scusa. Ah, Piano di Conca, però, Piano di Galleni per la campestra in questo caso. Sì, sì, questo è un video vecchio di qualche anno fa, stavo facendo la preparazione per le campestre che c'erano avere le prove dei regionali. Senti, ho visto che quando sono usciti gli amici della Virtus ha incrociato Dario Fazzi, più o meno penso che siete della stessa età. Sì, sì, lui è un po' più piccolo, sì. Ci corre non tanto, ma vi siete mai incrociati? Avete corso? Vabbè, io le gare in pista le faccio pochissime, quindi non ci si vede tantissimo in gara. Tu più che altro fai la campestre? Campestre, sì, ogni tanto l'ho visto, anche lui fa le campestre. Poi fai la strada anche nell'altra parte. Strada, assolutamente, sì. Poi lui l'ho conosciuto quando abbiamo fatto una staffetta insieme, un palio, quindi è proprio lì che l'ho conosciuto. Ho capito, ho capito. La storia di Laisa Bellandi invece so che è un po' particolare, no? Sì, un po' particolare. Tu com'è cominciato Laisa? Ma grazie a lui in realtà, grazie a lui e agli obiettivi lavorativi, perché mi sono avvicinata perché stavo preparando il concorso in polizia e non sapeva che affidarmi per la preparazione. Ho chiesto a lui e lui mi ha avvicinato a Luigi Virtolini che salutiamo, immagino, che è il preparatore delle piccole aquile. Intanto possiamo vedere qualche foto anche di Laisa, ecco qui, poi se c'è qualcosa di particolare. È lì stavo facendo il pacer al Mugello GP Run che si è tenuta ora recentemente. Quindi queste sono foto recenti? Questa è recente, questa è recente, sì, è l'ultima. Quindi diciamo per questo concorso avevi bisogno di comunque di cominciare a fare… Cominciare a correre perché era previsto… Ma di quando parliamo, scusa? Parliamo di cinque anni fa. Cinque anni fa, quindi un po' di tempo è passato. Belle queste foto intanto, devo dire sono veramente delle belle foto che… Perché io a differenza di lui mi diverto, loro vincono e io mi diverto e quindi arrivo al traguardo bella rilassata. No, per te dice che è un divertimento ma insomma col tempo hai… Poi ora voglio sentire Ghirma, hai cominciato anche a trovare delle belle soddisfazioni nel senso che… Sì, sì. Eh, se uno il lavoro lo fa seriamente e poi i risultati… No, sì, arrivano, arrivano, sì. Quest'anno è stato un bell'anno. Tu cosa fai, campestri, cosa fai… No, io strada, strada, strada. Diciamo che la tua filosofia è la strada. Sì, sì, sì. Corri su strada. Corri su strada. Distanze lunghe? Allora, per il momento sono arrivata alla mezza maratona, è la mia distanza preferita, però l'obiettivo sarebbe quello di allungare un pochino, sì. Mezza maratona? Per ora la mezza, poi chissà. La maratona va preparata? Ce l'ho nel cassetto, lo vediamo. Ghirma, visto che è colpa tua, poi adesso vediamo qualche foto anche di Ghirma, visto che è colpa tua, cosa dici di questi cinque anni da quando l'AISA ha cominciato? No, sono assolutamente felicissimo di averla incontrata e avergli dato questa possibilità qua, poi visto che si è appassionato a correre più di me, quindi guarda tutti i giorni. Ah, si allena più di te? Assolutamente sì, ha preso il via, doveva solamente fare questo concorso qua, ci ha preso passione. Tu invece qui dove sei? Cosa mi dici di te? Qui ero alla gara del Chianti a Siena, che l'ho fatto lo scorso anno, grazie a Fabio che mi ha invitato di fare questa gara qua e lo saluto anche lui. Ma tu continui ad allenarti in modo costante, serio, sì? Sì, 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 mi alleno. Anche grazie al Massimo ci stiamo allenando bene e stiamo avendo anche dei bei risultati, sì, sì. Cosa c'hai come, diciamo, come, visto che siamo a fine gennaio, domani, il primo febbraio, insomma, siamo adesso all'inizio dell'anno, qual è il tuo obiettivo per il 2023, se hai qualche obiettivo particolare? Allora, obiettivo a breve termine, ora c'è la seconda prova a Luca il 12 febbraio, qui sotto le mura. Ah, fra dieci giorni? Sì, sì, fra dieci giorni e poi più avanti vediamo, c'è in Paio, costa su strada a 10 chilometri e lì si punta a fare i personali e poi vediamo, dobbiamo organizzare, dobbiamo anche organizzare con il mio allenatore. Laisa, dobbiamo fare complimenti alle ragazze del gruppo sportivo Recchiella, eh? Tanti complimenti. E dobbiamo dire che l'atletica lucchese, intesa nelle prove, nelle prove anche della corsa campestre, veramente al top, perché a Campi Visenzio, campionati toscani master, in campo maschile, voi secondi e la società del presidente Poli e a Piappuane primo, campo femminile dove non ce n'è più nessuno, cosa dici? Eh, che... Dovremmo avere anche delle foto delle due squadre. Eh, che belle ragazze, sono state fortissime, è l'ottavo anno consecutivo che pensiamo, è bellissimo. Col prossimo anno eguagliate la Juventus come scudetti. No, ora vabbè, poi i Juventini ascolto dopo. Però, lasciamo perdere il caso. Senti no? No, 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 assolutamente no. No, no, perché questa... Ecco qua, ecco qua le foto. No, sono state... No, ma stupende, stupende. Fortissime. L'ottavo anno di seguito, i master, bravissime, è stata ottima anche la prova, la prima prova a Sena Lunga. Vinta da Clementine Mucandanga. Io devo chiedere perdono pubblicamente, che non so perché in un mail che mi hanno mandato mi ha scritto un altro nome e io pari pari con un pappacallo. Clementine Mucandanga, già alla Virtus poi è venuta con voi. È un'atleta questa veramente forte. E lei sarà in Spagna il 5 a gareggiare. Sì, per la Coppa dei Campioni. Sì, europei. Siamo alle solite, no, Ghirma? Il gruppo podistico Parco Alpiapuane c'ha la squadra maschile e voi già avete la squadra femminile. Sì, sì, infatti venerdì parto con loro e verrà a fare il tifo. Ah, vai giù. Sì, sì, vai giù, sì. Ho capito. E invece, per quanto riguarda il discorso a squadre vostre, quale può essere l'obiettivo adesso qui a Lucca, nella seconda prova? Attualmente siete secondi voi, no? Attualmente sì, al maschile maschile. Per i cugini dell'Alpiapuane è un po' complicato. No, no, noi ci cerchiamo di fare il nostro, è importante divertirsi e stare bene tutti insieme. Poi vediamo, sicuramente si farà al massimo per ottenere quello… Beh, confermare anche il secondo posto. Sì, sì, che non serve, non è assolutamente male, quindi… Poi al femminile siamo primi, quindi vediamo. Beh, è bello questo perché conferma che il podismo lucchese inteso come corsa campestre veramente è… e a livello individuale cosa speri di fare qui a Lucca? Ci saranno forse atleti ancora più forti di quelli che c'erano nella prova precedente, no? Sì, sì. Io cercherò di fare al mio massimo, portare il più punteggio possibile per la mia squadra e poi vediamo. Che in questo caso è un po' alla rovescia, funziona meno punti perché il piazzamento, è chiaro, se uno fa primo, secondo e terzo, in totale fa sei ed è sarebbe l'ottimo. Tempo è finito, Ghirma, è stato un grande piacere rivederti e averti qui con noi, davvero. Laisa, salutiamo anche i genitori di Laisa che hanno scelto questo nome bellissimo. Grazie e complimenti anche a te. Noi ringraziamo naturalmente Marco Cervelli, torniamo martedì prossimo, se non sbaglio, sì, Virtus Lucca e Atletica Pietrasanta-Versilia. Grazie, tra poco il Tg delle 20 e 30. Buonasera. Grazie.